Per il nostro riso di cavolfiore alla cantonese con gamberetti serviranno il cavolfiore, due uova, cipolla, peperone, carota, sedano e zucchina. Poi i gamberetti, burro chiarificato, biologico, della salsa di soia, curry, paprika e del sale. Poi i gamberetti, burro chiarificato, biologico, della salsa di soia, curry, paprika e del sale. Andiamo a tagliare a bastoncini le verdure, bastoncini piccolini. Prendiamo una bella padella, un wok. Andiamo a mettere sette cucchiaia di burro chiarificato e accendiamo. Prendiamo le uova con un contenitore, le rumpiamo un pochino. un pochino, un pochino, un pochino, un pochino. E poi andiamo a togliere. Facciamo un pochino di burro. Mettiamo un pochino di burro. Mettiamo un pochino di burro. Mettiamo il toperone, sedano e carota. Saliamo leggermente, dopo 2-3 minuti mettiamo anche del zucchine. Scuriamo con un goccio di salsa di soia, adesso possiamo aggiungere la cipolla. Ci mettiamo anche le uova. Mettiamo il nostro riso di saperchiore. Un pochino di curcuma. Un pochino di paprika. Ancora della salsa di soia. E lasciamo andare. Se vediamo che sta asciugue possiamo allungare con un goccino d'acqua. Aggiungiamo anche i nostri domberetti. E lasciamo un goccino d'acqua. Aggiungiamo. 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 Aggiungiamo.